Siamo a farci un giro sull'elvo a prendere qualche bella pagliuzzona Tutti in coppia se la fai lì non c'è acqua Andre devi farla qua che è più bassa se la fai lì non c'è acqua è per quello che facciamo l'acqua in giù vediamo lì già dove c'è il salto lì cazzo qua potevamo portare l'antalena eh la prossima volta ciao io ti sblocco un po' qua così arriva più flusso e non perdiamo quella lì ma dove è un sacco è che qua rompono i curioni per le ruote ci hai buttato di un grammo d'oro così cazzo ciao 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 Noi dovremmo starci tutti andati, non ci dobbiamo far star tutti i quanti Andri perché Noi dovremmo starci tutti andati Noi dovremmo starci tutti andati Tutti intenti a lavorare Noi dovremmo starci tutti andati Eccolo lì Madonna che bella quella lì Non metto la mano, te giù Ciucciala Non ci passa, non ci passa nel ciucciotto Perché ho usato un ciucciotto piccolo Aspetta, aspetta, fa vedere Ho usato questo ciucciotto che uso Tieni, tieni Eh ma cacchio, guarda come viene giù qua Non è che mi fudi molto di sta roba Io ci metto Noi dovremmo starci Noi dovremmo starci Anche perché siamo le solite Non ci metti tre ore con il cittino lavaggio No ci pieghi Ma ti parli un attimo Per lavare, per te? Eh perché non sono piccolo e stanno più fermi Ah sì, per lavare con la batea Sì sì Noi dovremmo starci terreno bello durino come lavorare pian piano il Cino Goldiger è completo manca solo gas via Cosa un giorno una roba di erba grossa così l'ho piazzata dentro la sua canalina non ce l'ho tirata via l'ho fatto dentro 030 nelle radici specializzate in radici buongiorno ci fai una videata anche noi ci proviamo basta girare la video attenzione il nostro amico Willy che non saluta perché è troppo preso crisla in fondo si scava Andre come si stacca che dona mano a Willy come si stacca che dona mano a Willy gopro spegniti un po' dai gopro spegniti gopro spegni gopro spegni gopro spegni gopro spegni ah no gopro resta video qua ragazzi la terra dell'elvo, bella bagnata, anticiposissima però il dragonfly lavora ugualmente ragazzi e anche bene, guardate i fiumi li faccio scendere piano piano perché altrimenti non faccio tempo a fare altro secco che si trova laggiù in fondo pavoroso che belle scaglie si riuscissima si prospetta un buon raccolto oggi vedremo bene non so se si riesce a vedere le montagne, è uscito un po' di sole qua ragazzi siamo arrivati a fine giornata sono le quattro, tre e mezzo adesso si aspetto che finisce di lavare il mitico dragonfly che con dragonfly sempre in doppio gaterai qua oggi mi aspetto almeno almeno un paio di grammi da quello che ho visto in prospezione ci saranno un paio di grammi qua si è formato il buchetto questo buchetto si è formato per colpa del taglio del fondo del secchio praticamente è rimasto un bordino e tiene su tutta sta roba qua mi sarebbe praticamente questo questo bordino qua ma lo cambierò ho messo la batea per controllare la fine comunque qualche pagliuzza che casca con un sasso davanti così di modo che le pagliuzze che eventualmente dovessero finisci nella canalina si fermino qua tra un po' vi faccio vedere il raccolpino ciao ecco qua il mio bagassino, ah il bagassino, il gabassino va che cartelle che ci sono farvela vedere con una mano lì ce n'è una bella grosso, va che bella e qui Cri è passato di livello si questo qui è soltanto una manciatina di quello che c'è la dentro grande elvo grande grazie Cri che meraviglia ragazzi e cosa non c'è dentro qui ancora andiamo a vedere andiamo a vedere questo è il primo cucchiaino e non so come raccogliere, è troppo grosso non ci sta neanche nel... non ci sta nel cucciotto sta roba secondo giorno si allora come possiamo vedere questa terra praticamente intonati come vi avevo spiegato delle due alette ho risolto il problema mettendo un sasso questo sasso praticamente vi direziona l'acqua dove volete un po' più di qua un po' più di la secondo insomma cercando di metterlo di far spargere la sabbia seduta la canalina ecco questo qua ad esempio in questo modo sta lavorando più di qua se in caso c'è meno acqua di qua lo spostate così così evitiamo di fare le alette tanto il funzionamento non è sempre uguale vedete come scende senza bisogno di tanta acqua insomma guardate che pallice che si è tornata lì siamo arrivati a fine giornata e willy sta facendo proprio il fino sopra solo 10 20 centimetri buco ricoperto lippac come me siamo arrivati a fine giornata bellissimo qua sotto la punta della besa va là c'è finì